buongiorno amici e benvenuti in questo nuovo video dedicato a forna in capitolo 3 stagione 4 siamo nella settimana numero 2 degli incarichi settimanali e oggi vedremo insieme come completare questo incarico settimanale che consiste nel sparare ai bersagli mentre sei su una zipline li troviamo in questi due tre quattro punti ora vediamo insieme come si completa questo incarico intanto vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto attivare la campanellina perché un sacco di video stanno per uscire con un sacco di premi per voi codici in collaborazione con la marvel guerra zero quindi mi raccomando pollicione su per supportare il canale e ora vediamo come completare questo incarico bisogna colpire tre bersagli mentre si è sulla zipline consiglio di riuscire a tenerla ferma per muovendo le tasti direzionali avanti e indietro così sarà più semplice colpire i bersagli usate una mitraglietta o un fucile a ripetizione così almeno è più semplice il completamento di questo incarico per questo video è tutto noi ci vediamo al prossimo con il codice del quinto fumetto di marvel guerra zero ciao ciao ciao